Grazie per essere venuti, forse qualcuno di voi si chiederà perché a Rinascimento si è preso la briga di incominciare ad organizzare degli incontri, tra le altre cose, chi ha visto la locandina anche per il prossimo, molto diversi l'uno dall'altro. La ragione è semplicissima, vorremmo che fosse qualcosa che serve a noi che siamo di Rinascimento e agli altri che non sono e sono contentissimo tra le altre cose di vedere tanti colleghi anche di Consiglio Comunale che di Rinascimento non sono ma che sono sensibili a questi temi. Noi lo facciamo un po' per noi, per confrontarci con tutti e soprattutto per creare dei contenuti sui quali discutere con cognizione di causa. Tante volte anche politicamente si affrontano dei discorsi senza dire esattamente e permettetemi anche di dire qualche volta che toccano i discorsi un po' in funzione di come va l'andazzo elettorale e che cosa vuole la gente che si dica e che gli si dica. Tante volte chi fa politica magari, mi metto io per primo, non sa bene di cosa sta parlando perché non si può essere tuttologi anche se il mondo è pieno di gente che presume o si pensa tuttologa e bisogna avere un po' di umiltà e farsi insegnare dagli altri. Qui stasera ci sono una valanga di architetti, il tema è sicuramente legato agli architetti, in particolare tutti i cittadini e quindi questo è lo scopo. Sono molto felice e molto emozionata di aprire questa prima serie di incontri che Rinascimento ha ideato per condividere visioni e saperi e soprattutto ascoltare chi ha dedicato e dedica con passione la vita a temi che sono patrimonio collettivo. Sono ovviamente molto emozionata perché i gentili ospiti che hanno deciso di essere con noi questa sera meritano di essere curati e condotti nel migliore dei modi e siccome sono nelle mie mani, poverini, confido nella loro grande pazienza e nella loro fiducia. Quindi abbiamo l'architetto Peluffo e l'architetto Guala. Dividerei effettivamente l'incontro in tre parti sostanzialmente, quindi prima l'intervento dell'architetto Gianluca Peluffo, poi parlerà Andrea Guala e infine, se spero ne abbiate voglia, lasciamo uno spazio agli interventi e alle domande del pubblico. L'architetto Gianluca Peluffo, professore associato di disegno architettonico, cofondatore dello studio 5 più 1 e fondatore EAD dello studio Peluffo & Partners. Archistar, nota a livello internazionale per progetti innovativi, come per citarne alcuni, la nuova moschea di Sokna in Egitto o la sede dello Yulm a Milano e tra l'altro vincitore quest'anno del premio della miglior lampada di design. Mi piace rilevare nel ricchissimo curriculum dell'architetto Gianluca Peluffo, a parte la sua qualifica di dottore in progettazione architettonica e la sua attività di ricercatore universitario, che per le sue attività culturali nel 2003 è stato insignito del titolo di benemerito della scuola e della cultura dal Ministero per i beni e le attività culturali e che nel 2017 fonda appunto, come detto, la Peluffo & Partners come un laboratorio di architettura urbanistica e arte, che ha la propria sede nello studio Lucio Fontana ad Albissola Marina nella Riviera Ligure. Trovo questa definizione laboratoriale e aperta, perfettamente aderente e sfidante per il nostro tempo complesso, che richiede di connettere competenze trasversali e avere un approccio multidisciplinare, che non cancella la pertinenza di ciascuno, ma consente di alimentarsi di idee e conoscenze che nascono altrove. Dialogheremo stasera a partire dai temi del libro Il giuramento di Pan, che tra l'altro trovate volendo in vendita all'uscita, una proposta di fratellanza per l'architettura, che si delinea intorno all'idea che l'architettura sia il luogo di incontro fra il sentire individuale e il sentire collettivo di una comunità. Attraverso spazio e linguaggio questa fusione di orizzonti anti-individualista persegue l'obiettivo della costruzione del cittadino. In tal senso il ruolo politico dell'architettura è non solo perseguibile ma inevitabile, un destino dentro alle cose fisiche e spirituali del costruire. Le parole affascinanti che ricorrono nel pensiero di Pelufo e nel suo libro sono molte e aprono mondi, tutti tra loro interconnessi, libertà, eresia, rivoluzione, eros, corpo, generosità, condivisione, felicità, stupore, meraviglia, piacere, fratellanza, desiderio, spiritualità, uguaglianza, infanzia, mito, bellezza. Chiederei allora all'architetto Pelufo di renderci partecipi di questa idea di architettura come luogo d'incontro, come spazio della bellezza rivoluzionaria e salvifica, come linguaggio e stimolo di felicità degli esseri umani. Queste parole grazie per l'invito, è un grande piacere essere qui. Dunque, io ho pensato di raccontarvi un modo di pensare, è un modo di ritenere l'architettura come un'attività politica. Quindi ho deciso di non farvi vedere i progetti che io ho realizzato in questi anni, un po' perché noi architetti siamo mostruosamente egocentrici, quindi poi diventiamo noiosissimi, ma perché volevo raccontarvi proprio un po' quello che lavorando e costruendo ho pensato di, come dire, avere capito rispetto al nostro lavoro. Ovviamente il nostro è un lavoro che, come dire, mette il nostro corpo a disposizione, questa è un po' una delle realtà più indiscutibili del nostro mestiere, e quindi c'è un aspetto individualista che va combattuto, però c'è un aspetto autobiografico che invece va molto mantenuto, perché credo che l'unico modo reale per poter donare qualcosa alla comunità sia una grossa coscienza della propria storia, della propria autobiografia. Per cui vedete che alla fine vi parlerò di genealogia, principalmente, oltre alle parole che sono state citate prima, che sono tutte pesanti e impegnative, ma che, diciamo, è andata così, ho deciso di mettere in questo libro. Però, diciamo, ve lo racconto proprio come un'idea di condivisione. L'idea che io, mi piace molto che qui ci sia la parola rinascimento, qui da condividere insieme, è proprio quella di un dovere, ognuno di noi, che noi si faccia lavoro, come dire, di prosa o di poesia, ma comunque un lavoro di racconto e di condivisione, ognuno di noi ha bisogno di trovare una genealogia. Per molto tempo, noi sappiamo, si usa molto spesso la parola identità, rispetto ai luoghi, rispetto alle comunità. Ecco, dato che la parola identità è una parola che ha sempre grandi difficoltà a essere individuata, identificata, e molto spesso implica anche delle forzature, mi è capitato di lavorare qualche anno fa, una decina di anni fa, anche meno forse, con un grandissimo artista italiano, Claudio Parmigiani, che non so se voi conoscete, che è una persona, oltre ad essere appunto un grandissimo artista, è una persona che ha fatto e fa un percorso anche di ricerca personale dentro il proprio lavoro, dichiarandolo anche chiaramente. Beh, comunque, molto semplicemente, a me è capitato parecchie anni fa di fare un lavoro per una chiesa con lui, per un progetto di una chiesa, proprio immaginandolo da subito insieme a lui, e, diciamo, lavorando, è successo, credo la seconda o la terza volta che ci siamo incontrati, che io sono arrivato molto in ritardo, mi capita spesso, purtroppo, e lui sta in una collina vicino a Parma, lui è stato, diciamo, un giovanissimo allievo di Morandi, e vive in una casa che sembra una casa di Morandi, uno dei pochi paesaggi di Morandi che sono stati dipinti, proprio in mezzo a questa collina, lui si occupa di vite, di tantissime piante, io sono arrivato lì di corsa, traffelato, e ho detto, ah, bisogna che lavoriamo, lui mi ha detto sì, e mi ha fatto aspettare un'oretta e mezza, era sera, mi sembra, e mi ha fatto, l'ho accompagnato, lui potava le cose, parlava con le piante, le solite cose che fanno le persone che hanno questa forza e capacità, e poi dopo un'ora e mezza mi ha detto, beh, adesso poi andiamo a cena, lui si è andato a cambiare, ho aspettato un'altra mezz'ora, poi abbiamo preso la macchina e dopo un'ora siamo andati in un posto a mangiare le dieci, a mangiare, e ci siamo seduti e lui mi ha detto, guarda, secondo me tu devi capire una cosa, che sei sempre così agitato, il ritardo è sempre così pieno di energie, ma anche, diciamo, energie che spesso sono autodistruttive, devi capire che la tua energia è legata al fatto che stai cercando la tua genealogia, e io sono rimasto, diciamo, colpito perché effettivamente, credo che lo sappiamo tutti noi che facciamo questo lavoro, ma tutti i lavori creativi in generale hanno sempre un aspetto di ricerca nel passato, di possibilità di futuro, e però questa ricerca molto spesso ci sembra nostalgica, ci sembra sempre di andare a guardare certe cose della storia, del passato, come se fossero momenti migliori di quelli che viviamo ora, quindi di nostalgia, quando uno ha un'attività creativa, la nostalgia è sempre un sentimento che ci lascia perplessi, ci sembra un po' incapace di andare nel futuro, quindi lui mi ha detto, guarda, abbiamo parlato di questo, il tema è proprio che non è una questione di nostalgia, è una questione che tu stai cercando una genealogia a cui appartenere, io per esempio, lui mi diceva, io per esempio dopo molti anni, ho capito che la mia genealogia ha come cuore una figura come Mantegna, lui mi ha raccontato i motivi, e mi sono reso conto di colpo che mettendo insieme tutte quelle che erano le cose che mi emozionavano, che mi hanno sempre interessato, incuriosito nello studiare, nel vedere le cose, viaggiare, tutte le cose che facciamo tutti, alla fine appunto c'era una serie di figure, di persone o di condizioni appartenenti ai mondi più diversi, nel senso che sono dell'architettura, dell'arte, della letteratura, della storia, qualsiasi tipo, che alla fine potenzialmente possono individuare un percorso dentro il quale inserirsi, chiaramente ci si inserisce per quello che si può fare, nel senso che è una genealogia dove c'è dentro Mantegna, Claudio è in grado di gestirla, e come dire, mi sono reso conto che questo tema della genealogia è un tema di incredibile libertà, cioè ognuno di noi può individuare una genealogia, cioè le genealogie sono infinite, soprattutto in una cultura come la nostra, devo dire, quindi una cultura mediterranea, una cultura comunque che ha in questo territorio, che è molto vasto, molto articolato, tantissime possibilità di ricerca di genealogia. Quindi la genealogia è un tema di libertà e di scelta, e questo è, credo, una specie di modo attraverso il quale alla fine io ragiono molto spesso nel progettare. Vi faccio vedere alcune cose, anzi vi leggo due cose, che secondo me possono essere utili per questo. Allora, io non so usare i... Ah, il mouse, ok. Ok, allora, la vista... Ecco, beh, vabbè, diciamo, il territorio dentro il quale ognuno di noi cerca la propria genealogia trovo che sia principalmente questo, naturalmente. a me è capitato anche di lavorare leggermente fuori da questo rettangolo, ma non mi sono trovato bene, devo dire. Però ho lavorato anche proprio sugli spigoli quasi, e invece lì, insomma, mi sono riuscito a sopravvivere. Ecco, una delle figure della mia genealogia è Michelucci, che non so se chi non è architetto magari non lo conosce, però chi ha viaggiato in autostrada credo che conosca la chiesa sull'autostrada, che è subito prima di Firenze, che è quella specie di tenda in rame, meravigliosa, in rame col basamento in pietra, che credo sia uno dei suoi edifici più importanti del secolo scorso dell'architettura, non solo in Italia. Vi leggo questo pezzo di Michelucci, che è tratto da un libro di suoi appunti di quando lui, diciamo, pensava di essere alla fine della sua vita, aveva 80 anni, lui è poi vissuto fino a 99. Ci sono le donne che fanno il pane, e il pane rigonfia sotto le loro mani. Ci sono le donne a cui il pane non gonfia. Quello è un fatto puramente naturale e fisico, perché deriva proprio dal calore delle mani. Noi architetti abbiamo un pane, abbiamo questo pane da modellare, ma bisogna controllare se abbiamo il calore, il calore nelle mani. E non c'è il calore se non si ama profondamente. Amare. Noi si ha una paura canna a dire amore, ma io voglio amare fino in fondo alla vita. Io sempre mi alzo apposta nell'inverno alle 5, 5 e mezza, per vedere la luna, per vedere le stelle, per vedere questa notte meravigliosa. Non è un fatto estetico, è un modo di prepararsi alla giornata, perché io la devo utilizzare dando un contributo. Ecco, il tema dell'amare le cose e del contributo che si dà è un po' il tema centrale rispetto all'idea di architettura e di genealogia che io ho. Nel senso, credo che il nostro lavoro sia proprio un lavoro di regalare e costruire dei meccanismi attraverso i quali le persone possono essere felici o almeno avvicinarsi a questo. Chiaramente uno può dire beh, ma come puoi immaginare di sapere tu qual è l'idea di felicità delle persone? Questo chiaramente è uno dei grandi come dire, deliri che appartengono al nostro mestiere. Però credo che ci sia un aspetto alla fine che è più semplice rispetto al tema della felicità che è quello di cittadinanza. Cioè, dire una persona può essere felice se si rende conto di appartenere a una comunità. Allora, il fatto di costruire i meccanismi attraverso i quali si appartenga a una comunità è il nostro lavoro. Cioè, il lavoro dell'architetto è costruire spazi fisici e spirituali dentro i quali una persona, un singolo, entra in contatto con la collettività. E questo è un meccanismo fondativo vi farò vedere poi dopo una metafora che credo sia molto chiara di questo meccanismo ed è il meccanismo diciamo che io trovo il punto di partenza del nostro mestiere. Quindi, è un mestiere che parte ovviamente da una condizione autobiografica che è fondamentale che è la ricerca della propria genealogia e va nella direzione del creare le condizioni perché si creino i cittadini. Cioè, si creino delle persone che sono ovviamente dei singoli con la loro identità ma che appartengono alla comunità. Questo ovviamente avviene in qualsiasi tipo di architettura non implica cioè, non è necessario che l'architettura sia pubblica per fare questo perché tutti noi subiamo le architetture anche private subiamo ne godiamo delle architetture private quindi non è un meccanismo appunto legato al fatto che si progettino chiese si progettino edifici pubblici si progettino scuole è chiaro che in certi tipi di edifici questa cosa è più eclatante o è più facile esprimerla o è più importante esprimere dunque il libro che io ho fatto racconta queste cose è un libro che è un po' una sintesi perché in realtà avevo in testa di scrivere questi tre libri che vedete qua che sono tre testi uno aveva il titolo Corpo, Mito e Genealogia perché mi interessavano tre aspetti cioè mi interessava il tema del linguaggio dell'architettura che è del tutto paragonabile al linguaggio dell'arte o della poesia o della prosa nel senso che se il tema come vi ho detto è la costruzione del cittadino quindi creare il meccanismo attraverso il quale il singolo entra in contatto con la collettività il tema della lingua è essenziale cioè l'edificio parla una lingua un linguaggio che fa in modo che ci sia questa connessione si crei questa connessione quindi l'edificio parla al singolo il singolo reagisce a questo parlare a questo dialogo e entra in contatto con la collettività quindi il linguaggio è uno dei temi fondamentali del fare l'architettura il mito poi è uno degli aspetti altrettanto importanti perché io credo fortemente che come dicevo prima l'architettura è fatta di spazio fisico ma è fatta anche di spiritualità e di evocazione e quindi i miti sono un tema di grande forza evocativa e anche di grande forza di condivisione nel senso che i miti sono qualcosa che ognuno di noi ha nascosto più o meno dentro di noi e il meccanismo di rimetterli in moto e renderli condivisibili è un tema molto importante capita molto quando si progetta si lavora su temi magari a scala più grande di città o di pezzi di città è molto utile ragionare in termini di miti cioè dire che mito voglio rimettere in moto in questo territorio questo perché è qualcosa che può essere condivisibile e comprensibile da tutti può essere un mito storico un mito collettivo o cose di questo tipo la genealogia che è quello di cui vi ho parlato prima che è un'idea di futuro mentre l'identità molto spesso ha qualcosa di nostalgico e di rivolto verso il passato la genealogia è un'idea di futuro cioè un'idea di inserirsi in una linea in un vettore si direbbe adesso che ha una direzione e un verso un'energia che è verso il futuro perché ognuno di noi dà un contributo dentro questa genealogia questa è l'unica immagine di un edificio che vi farò vedere questo è un pezzo di facciata di Yulm che è l'università dove ho insegnato per otto anni ecco questo è l'indice del libro ma vado più velocemente perché non voglio annoiarvi leggo due cose che mi faceva piacere leggere ecco la prima cosa è la metafora per me più chiara e più semplice dell'architettura che è quella del teatro greco allora il teatro greco ha ovviamente una questione tecnica di forma geometrica legata all'acustica alla visibilità però poi vedete che la sua forma diciamo non è più così regolare perché si adatta al paesaggio cioè si sceglieva un luogo adatto dal punto di vista paesaggistico percettivo per costruire un teatro e questo teatro veniva costruito per queste funzioni tecniche specifiche in una certa maniera ma poi la sua forma seguiva la forma del paesaggio questa è una prima metafora credo molto importante che semplicemente vuole dire che il nostro mestiere è un mestiere specifico cioè un mestiere in cui non c'è una strazione dalla quale si parte e che si sovrappone al territorio è un mestiere che implica la messa in forma del territorio conoscendolo cioè quindi con un'invenzione specifica ogni volta il secondo aspetto è l'aspetto diciamo mitico del teatro greco e anche collettivo il teatro greco vabbè lo conosciamo un po' più o meno tutti è un luogo in cui ci sono tre personaggi c'è tre ruoli fondamentali c'è lo spettatore l'attore il coro lo spettatore è il singolo quindi ognuno di noi l'attore è quella figura che rappresenta quello che può succedere ognuno di noi quindi c'è una somiglianza fra noi e l'attore il coro è colui il quale rappresenta la collettività rappresenta come dire il dialogo fra il singolo e gli dei ma anche fra il singolo e la collettività questo meccanismo è un meccanismo abbastanza preciso che è costruito per fare in modo che il singolo cioè lo spettatore diventi cittadino cioè diventi parte di una collettività e avviene in uno spazio specifico ragionando in termini di miti collettivi ragionando in termini di bellezza del racconto e di tragicità del racconto e quindi c'è la famosa catarsi quindi il fatto che a un certo punto attraverso questo racconto lo spettatore diventa esso stesso l'attore il protagonista cioè c'è una catarsi totale rispetto al racconto che sta avvenendo questa catarsi che è estetica è un meccanismo di appartenenza alla cittadinanza alla comunità è il percorso attraverso il quale si forma la coscienza collettiva di una cittadinanza ecco credo che l'architettura è la stessa cosa ancora oggi è la stessa identica cosa cioè è una narrazione di temi collettivi questa narrazione avviene in un luogo in uno spazio fisico che però è anche uno spazio di spiritualità perché i racconti che avvengono hanno una forza spirituale chi partecipa e chi vive questo luogo entra a far parte di una collettività perché ci sono questi racconti quando vedete dell'architettura che non raccontano nulla non è che diciamo manchino di questo obiettivo vi stanno dicendo che non c'è nulla da raccontare cioè c'è un tema c'è una volontà specifica io credo dall'altra parte invece che ci sia sempre moltissimo da raccontare e che quello che si sceglie di raccontare come si sceglie di raccontarlo sia modo attraverso il quale innescare questo meccanismo di cittadinanza questa è diciamo la metafora del teatro è una delle metafore un po' più chiare credo e forti per quello che è la mia idea di architettura ecco la seconda cosa e mi fa piacere poi ed è un grande onore che poi il prossimo incontro ci sia qui Ezio Bianchi mi sembra una cosa veramente commovente perché l'altro aspetto fondamentale legato al tema della genealogia è come quando è che vi rendete conto di appartenere alla genealogia e questo è diciamo vi leggo questo pezzo perché è proprio il racconto di quando una persona si accorge che esiste questo percorso genealogico questa persona è Roberto Longhi che è uno dei grandissimi critici d'arte del secolo scorso che non a caso si occupava ugualmente di arte e di architettura cosa che non succede più ormai da 20-30 anni e questo è uno dei grandi drammi del nostro mestiere nel nostro paese cioè il fatto che ci sia stata una separazione fra arte e architettura drammatica Roberto Longhi è uno dei grandi insomma lo conoscete lo conosciate lui scrive questo pezzo bellissimo parlando di Masaccio chi vorrebbe provarsi a diminuire anche di un soffio l'ombra che trascorre nel brano dove San Pietro risane i malati con l'ombra lo conoscete questo è l'affresco di Masaccio in cui appunto San Pietro con la sua ombra cura i malati dopo la vista al buio dell'inferno ove privazione di lume e pertanto anche d'ombra Dante uscito alla luce australe del monte del purgatorio si fa ripetutamente riconoscere come corpo vivo dall'ombra che gli getta su questo punto forse medita Masaccio quel suo modo di rilievo vitale quasi una rivelazione del segreto dell'esistenza terrena in una fisica nobilitata dall'azione dove certo riempire i contemporanei di una meraviglia pare a quella che gli spiriti del purgatorio dantesco provano nell'accorgersi che Dante è vivo perché getta ombre ed anche a noi oggi ad ogni nuovo incontro con l'arte di Masaccio viene fatto di usare il tratto dantesco colui non par corpo fittizio da questa radice di certezza esistenziale che non si insabbi l'angoscia ma sbocchi in azione perenne procede il mondo rilevato da Masaccio il suo dramma portato da uomini decisi a risolverlo e rimane come una delle più alte testimonianze dello spirito umano nell'arte d'Italia allora perché questo testo qua è straordinario beh innanzitutto è scritto in un italiano meraviglioso per cui anche questo pezzo è un'opera d'arte e fa parte della genealogia di cui lui sta parlando nel senso che lui individua un elemento genealogico di connessione fra Dante e rinascimento ed è la corporità fisica e il fatto che il corpo fisico implichi una spiritualità cioè lui dice Masaccio dipinge affresca San Pietro San Pietro cura i malati attraverso il suo corpo fisico cioè attraverso l'ombra così come Dante stupisce tutti gli spiriti perché è l'unico che fa ombra nel purgatorio quindi lui crea immediatamente una connessione di tematica fra Dante e chi 200 anni dopo inizia il rinascimento questa è la genealogia è la nostra genealogia perlomeno è con chiarezza una delle nostre genealogie ad esempio il rinascimento può essere invece come dire visto maggiormente rispetto a tutto il tema della proporzione dell'esattezza c'è tutto un aspetto rinascimentale che ha a che fare con i temi della appunto proporzione il fatto che l'uomo sia al centro del mondo che le proporzioni del suo corpo diventino le proporzioni della città ideale ci sono tutte una serie di aspetti del rinascimento in quella direzione ecco quella è una genealogia dentro il quale il rinascimento sta io credo che questa genealogia cioè quella in cui si dice la caratteristica principale del rinascimento è che dichiara la corporeità fisica dell'uomo dell'essere umano quindi la sua fisicità sensualità caducità è nello stesso tempo il motivo della sua spiritualità e contiene la sua spiritualità ecco questo credo che sia uno dei grandi come dire temi che attraversano la nostra cultura quella mediterranea vi ho fatto vedere prima la mappa del Mediterraneo credo che se voi prendete questo testo di Dante Masaccio poi andate a ragionare su Albert Camus e su Lucio Fontane Alberto Burri vi rendete conto che ci siano temi che hanno a che fare col corpo con la materia con l'infantile con lo spirito che sono genealogici cioè appartengono a questa genealogia ecco quando diciamo più o meno coscientemente o più o meno diciamo forzatamente ognuno di noi si sente parte di una genealogia sente dentro di sé da una parte una grande forza perché intanto come dire ha dietro le spalle delle persone di un certo livello con le quali dialogare o da quale farsi aiutare perché poi scherzi a parte la grande cosa di capire di appartengare una genealogia che si hanno aiuti continui cioè si va a cercare aiuto sempre dentro questa genealogia per immaginare il futuro e poi si ha un senso di dovere nei confronti degli altri perché poi ognuno di noi ha i suoi talenti le sue capacità e si rende conto appartenendo a una genealogia che ha il dovere di fare in modo che questo meccanismo genealogico sia utile alla collettività e quindi non dico che sia una missione ma qualcosa di molto vicino cioè il fatto di dire io voglio che il mio lavoro poetico o prosaico che sia sia un lavoro che crea condizioni di felicità come vi dicevo prima o quindi di condivisione ecco nel libro ci sono pochissime immagini quindi è un libro un po' punitivo non lo dico se chi lo volesse comprare insomma è un po' faticoso ma non perché è difficile perché è un po' complicato perché diciamo è come vi dicevo è una specie di sintesi di tre libri quindi ci sono alcune cose che forse sono un po' diciamo saltate per raccontare le cose ecco nel libro ci sono poche immagini ci sono solo alcuni accoppiamenti che sono un esercizio che io ho fatto fare agli studenti di Yulm che erano studenti non di architettura ma di arte e comunicazione proprio per individuare meccanismi genealogici cioè io ho dato loro una serie di immagini di arte o di architettura e ho chiesto loro da non architetti di analizzare un po' queste immagini per capire che cosa ci fosse di come dire che cosa facessero venire in mente di comune o di condiviso in questo caso questa coppia mente è stato quello della fragilazione di Cristo di Piero e la Francesca della seconda sala del museo di Castelvecchio di Carlo Scarpa a Verona ovviamente escludo che Carlo Scarpa abbia progettato quello spazio pensando direttamente alla fragilazione di Cristo però è incredibilmente interessante e divertente rendersi conto di come la luce arrivi dalla stessa parte di come la schiena di alcune figure sia più importante del volto delle figure stesse di come si giochi su un tema di assimetria ben temperata bilanciata di come ci sia un tema di galleggiamento delle figure che sono o appoggiate su delle lastre galleggianti oppure quasi sospese sul pavimento sul suolo e come ci sia una come dire un ruolo della figura di Cristo da una parte e di un'altra figura religiosa scultoria sempre nella stessa posizione incredibilmente connessi ecco quello che mi interessava era proprio dire non credo che Carlo Scarpa abbia diciamo voluto citare quel quadro nella composizione di questo spazio però sicuramente dentro di lui c'era una coscienza dello spazio e del ruolo del corpo del tutto vicino a quella che praticava Piero della Francesca e quindi mi interessava un po' dire è come se ci fosse un gene che appartiene a tutte e due che fa in modo che il ruolo del corpo nello spazio sia lo stesso la stessa cosa qui a destra vedete l'interno è una chiesa di Michelucci di cui vi parlavo prima a sinistra c'è il sogno di Costantino sempre di Piero allora Costantino se deve raccontare la nascita di una comunità che è diciamo la nascita dell'impero romano cristiano lo fa dipingendo una tenda una tenda che ha una struttura che segna diciamo l'asse del dipinto quindi poi crea l'equilibrio o disequilibrio tra le figure e le posizioni delle figure e quindi utilizza degli elementi archetipici la tenda l'albero o il palo per determinare che quel momento è un momento che cambierà il mondo perché determinerà la nascita di una comunità Michelucci deve fare una chiesa deve progettare una chiesa e per progettare una chiesa decide di utilizzare gli stessi strumenti cioè decide che una comunità deve deve trovare un luogo fisico che è fatto di di una tenda che è una tenda in cemento armato perché sta costruendo a fianco l'autostrada quando l'Italia era in ricostruzione attraverso le autostrade attraverso il cemento armato e diciamo io sono Ligure quindi il crollo del Ponte Morandi da questo punto di vista è un tragico una tragedia che rappresenta il crollo di un'idea di ricostruzione del paese lui ricostruisce in cemento armato la tenda e costruisce in cemento armato l'albero perché l'albero è diciamo la figura iconica intorno al quale le persone si siedono per parlare c'è il mito dell'albero intorno al quale le persone si siedono la scuola si dice che sia nata così di persone che si siedono intorno all'albero e c'è qualcuno che racconta delle storie mentre invece la comunità nasce in parallelo quando qualcuno decide di posare una tenda in un luogo e quella tenda magari nel tempo diventa più solida la stessa cosa sempre la chiesa di Michelucci e la Madonna del Parto sempre di Piero le braccia dell'angelo che aprono la tenda che rende visibile la Madonna del Parto sono i contrafforti questo puntone straordinario che proprio apre e tiene e apre la tenda della copertura della chiesa di Michelucci a sinistra c'è un particolare di Masaccio a destra c'è un particolare di un edificio Luigi Moretti che è uno dei grandi architetti del secolo scorso della Casa del Girasole di Roma Luigi Moretti durante questo cantiere si rupe una gamba era un uomo molto corpulento e il cantiere durò parecchio allora i gessi erano molto lunghi quando gli tosero il gesso chiese agli operai di usarlo come come getto a perdere come cassaforma a perdere per inserirlo dentro questa finestra e chiaramente quello non fu un atto diciamo così di gioco ma era la volontà di far capire come alla pietra al calcestruzzo all'ombra che la pietra e il calcestruzzo creano era possibile affiancare l'ombra del corpo fisico cioè come il corpo fisico sia la stessa materia della costruzione degli edifici cioè il nostro corpo è la stessa materia della costruzione degli edifici a sinistra vedete Masaccio in cui è evidente come la corporeità fisica sia l'argomento per lui centrale della sua rivoluzione artistica quindi non la perfezione geometrica la proporzione ma la sua corporeità finisco con questo testo di Michelucci così almeno che come dire appunto dato che ho deciso che per me lui è una delle figure centrali della mia genealogia l'ho ripetuto molto spesso l'ho utilizzato molto spesso questo racconto molto bello breve anche questo tratto da da un testo che ha come non a caso il titolo la felicità dell'architetto e quindi ha come tema la condivisione di questa felicità cioè fare in modo che la felicità del nostro lavoro diventi anche la felicità delle persone che usano i nostri edifici non so ne mi sono mai preoccupato di capire cosa significano i sogni quale influenza abbiano sulla realtà anche perché li ho sempre considerati parte integrante della realtà stessa ed è per questo che mi ritengo un sognatore di città possibili un deviante della mente forse si sarebbe detto in altri tempi un sintomo di disadattamento rispetto ai ritmi inesorabili del progresso e dello sviluppo della civiltà metropolitana ora che questo tipo di sviluppo sembra assumere la velocità di accelerazione di una caduta catastrofica piuttosto che la crescita di un organismo vitale questo fare proprio e le suggestione del sogno può diventare uno dei pochi appiglia alla speranza per riacquistare un rapporto diverso non solo con il proprio passato ma soprattutto con il futuro fatto sta che ho sognato la cosa più elementare che possa sognare un uomo una capanna in un bosco una capanna con la bocca di lupo una povera capanna una dimora provvisoria in cui aspetto evocava l'infanzia i ricordi ancestrali gli odori gli umori del muschio del pane appena cotto del formaggio ricordi forse di una realtà irrecuperabile se non nel sogno tanto vero che avvicinandomi la capanna invece di ingrandirsi rimpiccioliva sempre di più un luogo talmente piccolo da considerarsi inabitabile ma ad un tratto ho intravisto all'interno l'ala di un angelo una presenza angelica e nessun luogo è povero o di poco conto se abitato da un angelo allora da questo sogno apparentemente regressivo mi è passo di comprendere visivamente una realtà elementare eppure ricca di implicazioni che non sono i luoghi che devono cambiare ma le persone che li abitano una verità che Giotta aveva capito benissimo tant'è vero che in molte delle sue opere gli spazi raffigurati sono angusti rispetto all'azione che vi si svolge la stessa ala dell'angelo che io ho sognato assomiglia a quella che attraversa la piccola finestra nell'edicola dell'annunciazione uno spazio è sempre povero quando è privo di capacità di relazioni ed è sempre bello quando è generativo di incontri di possibilità si non inosplorate e forse questa è la felicità dell'architetto grazie Andrea Gualla si laurea in architettura al Politecnico di Milano ed è professore a contratto per la cattedra di architettura degli interni alla facoltà di architettura di Milano Bovisa dal 1994 al 2000 collabora nel corso di composizione architettonica del professor Pietro De Rossi nel 2000 costituisce a Milano con Jacopo De Carlo lo studio De Carlo Gualla sviluppando progetti di architettura e design affiancati da dieci collaboratori tra architetti e designer i due soci progettano e realizzano uffici residenze private negozi e showroom partecipano a numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra i quali il concorso internazionale per la riqualificazione della città di Tianjin in Cina in compartecipazione con lo studio PCMR classificandosi secondi il sodalizio professionale sviluppa la ricerca intorno al concetto di design interattivo capace di stimolare nuovi comportamenti abitativi diverse le partecipazioni a mostre di design in Italia e all'estero nel 2005 Gualla e De Carlo progettano e realizzano per UF International Company la nuova sede europea a Lugano e per la stessa compagnia sviluppano numerosi concept stores Napa Peery in tutto il mondo nel 2010 progettano per il gruppo Tod's SPA il nuovo concept store per il marchio Hogan a cui seguono il primo negozio Hogan ad Hong Kong e gli showroom di Milano e Parigi ma l'architetto Gualla rimane radicato al suo territorio che ama e per il quale con amore pensa a progetti di intervento pubblico e privato destinati a migliorare sensibilmente la qualità della vita della nostra comunità con lui affronteremo il tema della nostra città come città turistica e del ruolo dell'architettura rispetto all'idea di turismo di un turismo sostenibile l'organizzazione mondiale del turismo definisce il turismo sostenibile come quell'attività che soddisfa i bisogni dei viaggiatori e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora le opportunità per il futuro contribuendo alla protezione della natura e al benessere delle popolazioni locali non basta infatti progettare architetture rispettose della natura con fabbricati costruiti con criteri moderni eco-compatibili e con riuso di materiali di costruzione isolamento termico ventilazione naturale riduzione di uso e riciclaggio di acqua produzione di energia rinnovabile ma è necessario anche rispettare la cultura e l'economia del luogo per la sostenibilità a lungo termine da parte delle popolazioni locali i progetti devono essere etici e virtuosi non sfruttare il territorio la cultura o la popolazione ma al contrario generare ricchezza in una progettazione capace di integrare tutti gli elementi un approccio progettuale visionario dove la funzione dell'architettura può rappresentare il vero driver di crescita economica e di futuro sostenibile per l'architetto Walla investire in qualità dell'architettura significa quindi rendere un territorio più bello e più competitivo architettura come parte fondamentale del paesaggio e quest'ultimo motore insostituibile dello sviluppo turistico in una relazione inscindibile ed indispensabile l'uno per l'altra chiediamo allora ad Andrea Guala di raccontarci la sua visione di una città e di una regione che puntano alla massima valorizzazione turistica grazie 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 mille per l'invito la planata ragazzi sarà dolorosissima perché dai voli altissimi che ci ha fatto affare l'architetto Pelufo adesso vi faccio fare uno schianto però d'altra parte credo che questo fosse anche un po' il vostro la vostra idea di questo incontro contenuti filosofici e teorici rispetto alla questione di essere cittadino e del ruolo dell'architettura e in quanto cittadino e poi quello di capire come appunto l'architettura entri dentro le nostre vite e entri come dire dentro le dinamiche di trasformazione delle città ecco e quindi proprio per abbassare tantissimo il livello entriamo dentro una dimensione quasi un po' cinico economica le trasformazioni urbane producono ricchezza e possono produrre insieme a ricchezza anche bellezza ecco forse sì questo è uno degli esempi classici che si portano rispetto a questa questione Bilbao una cittadina dei paesi baschi che all'inizio degli anni 90 avversava in una crisi economica importante le miniere delle Asturie sembrava non interessassero più a nessuno il porto di Bilbao che era essenzialmente fondato sulle dinamiche legate a queste miniere era andato in crisi profonda un intervento coraggioso come dire un'iniziativa coraggiosa che ha coinvolto appunto un rapporto tra pubblico e privato l'amministrazione di Bilbao e una delle più grandi istituzioni museali del mondo Guggenheim cosa fanno? coraggiosamente la fondazione Guggenheim decide di costruire una propria sede a Bilbao dimenticata città dei paesi baschi chiamano un architetto dalle qualità straordinarie frangheri che devo dire non amo come dire nella completezza del suo lavoro ma credo che qui abbia fatto un colpo da maestro e ha fatto come dire ha renato questo peschereccio dentro nella darsena del porto di Bilbao e addirittura l'ha infilato sotto una tangenziale ecco come dire un colpo da maestro dal punto di vista come dire della risoluzione architettonica nel senso che riesce e riuscito a come dire a unire visibilità come dire la decisione di infilare questo edificio sotto la tangenziale in modo da renderlo visibile in maniera eclatante e nello stesso tempo usare il simbolo della decadenza del porto di Bilbao materializzarlo anche attraverso un'operazione che potremmo definire un pop-up come dire è stata un'idea di grande genialità ma al di là della genialità al di là dell'architettura questo scatolone ha credo un milione e mezzo di visitatori l'anno e nei primi nei primi credo dal 98 al 2000 quindi i primi due anni in cui funzionava ha prodotto un indotto per la città che credo che vada intorno ai 650 milioni di dollari come dire no l'architettura e le trasformazioni urbane sono capaci ecco di trasformare completamente il senso e l'economia di una città la domanda che no che 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 ho fatto in due occasioni diverse eh come dire da cittadino incidentalmente architetto ecco nel senso sono un cittadino di Aosta come dire condivido con con come tutti i cittadini di Aosta no le come dire la visione le potenzialità che 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 può avere questa città incidentalmente faccio l'architetto e quindi necessariamente no mi viene da avere un come dire un come dire un pensiero progettuale credo che una delle prime cose appunto che dovremmo chiederci è io dico prima o poi mi è capitato di dire Aosta dovrà rassegnarsi a diventare città turistica per il momento siamo come dire città turistica per un giorno potremmo dire e forse non potremmo dire che come la canzone di Marinella questo sia come dire un fatto positivo per un giorno nel senso che abbiamo degli asset straordinari che sono la nostra via centrale il nostro decumano il cardo il decumano la nostra come dire il nostro patrimonio di monumenti archeologici il tutto però normalmente si risolve in una giornata come dire in un giorno passo cioè nel senso che il turismo di Aosta si risolve appunto in un turismo di passaggio un turismo di passaggio dove appunto più o meno in una giornata riesco a vedere tutto quello che ci dicono che c'è da vedere ad Aosta ecco i progetti che abbiamo identificato adesso in questo schemino come dire il percorso 1 il percorso 1 diciamo è quello che abbiamo risolto sul quale non abbiamo nulla da fare anzi funziona benissimo questi due progetti che ho fatto che poi hanno trovato a un certo punto anche un loro senso complessivo cercano di lavorare ecco su almeno altre due giornate ecco nel senso di trovare come dire intravedere nelle potenzialità di Aosta la potenzialità di poter tenere per altri due giorni i turisti quello che vedete in verde è un progetto che ho fatto che ho chiamato il percorso del tempo libero e della cultura un progetto che ho sviluppato con i miei studenti nel mio corso di progettazione architettonica del Politecnico di Milano e l'altro quello che vedete in giallo che ho chiamato il percorso di collegamento con Pile invece è stata un'occasione che ho avuto di fare un progetto su commissione della Pile S.P.A. e che riguardava appunto il rapporto della città con la telecabina e quindi con Pile questo progetto nasce abbastanza casualmente stavo era un momento in cui dovevo scegliere dovevo trovare un tema appunto per il mio corso per il mio laboratorio di progettazione mi capita per le mani un aerofotogrammetrico come questo probabilmente in studio e ai quattro vertici del centro come dire no del centro storico di Aosta vedo queste quattro macchie verdi e come dire la linea che collega queste quattro macchie verdi era niente po' di meno che la traccia delle mura romane perfetto a questo punto mi sembrava come dire di aver trovato di aver trovato il tema per la mia esercitazione nel frattempo in quegli anni mi ero molto appassionato di un paio di progetti uno è questo che il progetto di questo della High Line di New York di questi due architetti che si chiamano Diller e Scofidio che hanno come dire recuperato una 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 ferrovia dismessa no o meglio poco prima si era deciso di smantellare questo questo tratto di ferrovia che serviva i magazzini sulla parte ovest della penisola di Manhattan perché ormai insomma in disuso non servivano più ormai si stava trasformando quella parte di città celsi insomma il mercato immobiliare ormai era diventato era diventato egemone e fermi tutti questi due architetti si inventano questo progetto che ritengo straordinario straordinario perché ci dicono due cose uno che le trasformazioni urbane non necessariamente è come dire devono essere realizzate a suon di metri cubi no voglio dire qui non si costruisce come dire un metro quadrato no un metro cubo ma la forza che ha avuto questo progetto no nel senso che quando nel senso è stato particolarmente colpito quando sono andato a visitarla ho avuto una percezione della città di New York completamente diversa rispetto a quella che avevo sempre avuto e quindi come dire ho capito quali possono essere le potenzialità ecco dei percorsi dei percorsi pedonali un altro progetto che in quegli anni mi appassionava o meglio che ho durato un po' di anni qui siamo ai park a a Londra e in mezzo a questo parco poverini ecco c'è un'altra istituzione importantissima la Serpentine davanti ecco nella foto sotto davanti a quel giardino i signori della Serpentine si sono inventati che ogni anno chiamano un architetto di di una stare internazionale e gli fanno costruire un padiglione ecco quello spazio il padiglione la costruzione di questo oggetto anche come dire che poi in questo caso aveva anche come dire una dimensione temporale limitata dura un anno dopodiché si smonta se ne ricostruisce un altro il padiglione posto in quel giardino bellissimo ma sostanzialmente metafisico nel senso che no che cosa ci faccio perché ci devo stare diventa il catalizzatore no di energie e di flussi importantissimi ed è così che il tema del corso era diventato proprio quattro parchi e un percorso ciclopedonale per Aosta all'interno qui ho insomma la sette di quattro progetti all'interno di ognuno di questi parchi faceva appunto costruire un padiglione che contenesse una possibilità di offerta di ristorazione bar ristorante e uno spazio espositivo quindi quattro quattro parchi e quattro spazi espositivi ai vertici di questo percorso questi spazi li conosciamo sono tutti spazi che non sono direttamente disponibili però potremmo dire potenzialmente disponibili il parco della torre del lebroso il parco degli orti di Tourneuve il prato di Sant'Orso che si estende poi dietro e arriva oltre il cimitero lo stadio Poucheau che sono anni che ci dicono che potrebbe andarsene ma magari prima o poi se ne va e ci giocano palloni i bambini e non i calciatori che non va neanche male ecco questo percorso anche vuol dire il percorso che collega questi punti è sostanzialmente già fatto naturalmente basta prendere un bravo progettista e questo percorso si materializza e diventa veramente un percorso e in parte in gran parte è già anche molto bello e molto molto definito perché c'era sembrato man mano che lavoravo con gli studenti e a un certo punto in qualche occasione ho già presentato qualche volta un progetto di tanto tempo fa ho ritenuto che potesse essere un progetto come dire che potesse avere un interesse per la città ragione quella che dicevamo la nostra necessità di un percorso che abbia una qualità urbana alternativo alla via centrale a Osta ha bisogno di parchi urbani abbiamo dei bei giardini per i ragazzi ecco l'unico giardino pubblico che possiamo dire parco pubblico è questo che poi parco non è è una sorta di atrio tra i licei la stazione il tribunale ha un bisogno di percorsi ciclabili però vedo Andrea insomma so che in questo senso si sta facendo un ottimo lavoro ma soprattutto ecco quello che mi sembrava interessante chiudesse un po' in cerchio era il fatto che questo percorso potesse come dire dare delle potenzialità nel senso di spazi espositivi alla città importante uno due tre quattro spazi espositivi dicevamo all'interno di questi di questi parchi e la possibilità di mettere in rete su questo circuito anche gli altri tre spazi espositivi della città Palazzo Roncas la chiesetta di San Lorenzo e con un peduncolo che arriva da sotto molto meglio che da sopra perché purtroppo quell'assurdo urbanistico che via Festaz ha completamente disassato la possibilità della nostra percezione del centro storico quindi con un aggancio da sotto anche il centro San Benet vi rendete conto di come al centro San Benet sia così difficile andare perché via Festaz è una specie di come dire di fiume che ti porta da un'altra parte del mondo non sei più nel centro storico ma sei dall'altra parte del mondo l'abbiamo chiamato una sorta di idea di museo diffuso sei spazi espositivi a disposizione della città che interpretano in una maniera completamente diversa le grandi città fanno dei grandi scatoloni dove come dire moltiplicano la proposta gli danno la possibilità ecco di avere degli spazi di comfort il bookshop il giardino tutto bellissimo in funzione di un'idea che non si va più a vedere le mostre perché sono appassionato sì ce ne sono qualcuno ma relativamente in pochi della mostra di Munch ma perché voglio passare una giornata con la mia famiglia con la mia figlia eccetera eccetera quindi ecco mi sembrava che questa idea di un museo diffuso dentro un percorso dentro spazi che condividessero tempo libero e cultura potesse interpretare anche un nuovo modo di fruire la cultura e l'arte l'altro asset l'altro asset che come dire queste sono come dire cose che appunto potenzialità che appunto ripeto da cittadino come dire travisto dentro la nostra città abbiamo un asset straordinario e cioè una funivia che parte dal centro della città e ci porta in 20 minuti a 2000 metri una cosa che che la possono vantare due o tre posti in tutto l'arco alpino però di questa cosa sembra che non ce ne rendiamo conto la funivia è questo oggetto sperso dentro questa landa desolata nella nostra la piazza ecco che non l'ho presa insomma ma è appena lì sopra la piazza scianume nel senso il centro fisico del centro storico di Osta credo che in linea d'aria sia 150 metri una roba del genere ma nel nostro immaginario questo oggetto è perduto in una landa desolata per arrivarci devo prendere la macchina passare sotto il sottopassaggio vedermi l'ipermercato arrivare lì e trovarmi in questa come dire dentro questa situazione post atomica quindi quando mi hanno chiamato appunto la piazza mi ha chiamato con l'intento di risistemare i parcheggi importantissimi perché i parcheggi hanno un'importanza rilevantissima in come dire immediatamente ci siamo resi conto che forse il problema andava un pochino oltre alla risistemazione dei parcheggi ed era proprio come dire la risoluzione del rapporto di questo oggetto con la città che poi si trova non so casualmente o meno ma veramente in un punto straordinario perché è sull'asse del cardo massimo i miei progetti sono banali nel senso che leggo delle cose che trovo già dalla croce di città che siamo in questo punto attraverso via Shallar ecco arriviamo l'assurdo urbanistico di via Festa sta anche nel fatto che è riuscita a distruggere anche la continuità del cardo massimo ma potremmo affettare magari quell'angolino di edificio e magari riusciamo riusciamo ad andare lì prendiamo via Bramafa e là ecco lo vedete già lì davanti per lo scatolone marrone è la comedia il progetto come vi dico è banale nel senso che a quel punto credo che qualsiasi bambino gli venga voglia di mettere un ponte e atterrare dall'altra parte tant'è vero che vado in studio butto giù quello schizzettino da sopra vado su scavalco il treno la circonvalazione eccetera ecco qui magari un'ideina dell'architettura c'è atterro su una piattaforma lascio sotto tutte le macchine perché è facile fare i progetti eliminando tutte le auto e sopra questa piattaforma costruisco una piazza pubblica sotto le auto con i suoi buchi perché anche lì non mi piace la claustrofobia dei parcheggi e quindi appunto questa piattaforma sulla quale costruiamo una piazza pubblica dove ci immaginiamo ci immaginiamo bar ristoranti negozi di articoli sportivi no una come dire una terrazza davanti a Pila davanti alle nostre montagne ecco c'è un'altra vuol dire questo luogo ha poi un'altra potenzialità veramente straordinaria e cioè di essere di poter essere anzi potenzialmente il termine automobilistico della città cioè da qualunque parte io arrivo anche non solo per andare a sciare anche a maggio giugno arrivo da Courmayeur Latouille devo venire da Osta posteggio la mia auto prendo il mio se devo andare da un po' lontano una bici in bike sharing se invece vado vicino vado a piedi sul mio ponticello arrivo in centro dicevo la potenzialità dei parcheggi è fortissima perché c'è tutto il parcheggio che attualmente usa la pila il lotto di fianco il multipiano che è già stato realizzato dal comune la potenzialità di poterne realizzare anche altri insomma diciamo che può diventare potremmo anche togliere tutti gli altri parcheggi che ci sono nel centro storico un luogo per i turisti ma anche per i residenti perché poi ecco tutto io penso che lo facciamo per il turismo no essenzialmente questi progetti li pensiamo per noi perché almeno sabato e domenica siamo turisti anche noi per i giovani che forse sembra che diano fastidio ormai i giovani di giorno e di sera nei centri storici magari se gli creiamo un luogo dove non diano fastidio penso che potremmo fare qualcosa di interessante anche per loro quando vedo quest'ultima immagine mi è capito di fare una battuta cioè dire vorremmo vedere ad Aosta molte più persone vestite da sci ecco nel senso che attraverso un collegamento diverso del centro storico con questo asset incredibile che abbiamo probabilmente ci capiterà di più di vedere persone vestite da sci che passeggiano per le strade del centro vanno a prendersi un caffè vanno al ristorante insomma potrebbero fare di Aosta una città turistica grazie per l'attenzione non è come è stato detto molto bene l'architetto gualla più orizzontale con quella più verticale di gualla stesso io ho avuto l'esperienza di assistere alla presentazione del libro di Gianluca Peluffo in un posto magico che è l'oratorio di San Costantino e Sant'Elena Palermo dove a un certo punto una stante un ascoltatore ha chiesto perché qui non si è ancora capito il senso del titolo del libro di Gianluca e Gianluca ha risposto leggendo quello che è il giuramento di Pan che io gli chiederei di illustrare e di leggere perché credo che sia un momento emozionale grazie allora non è una domanda è una trappola sì sì dunque il titolo del libro è il giuramento di Pan che uno dice perché rispetto a quello che hai raccontato si chiama in quella maniera dunque poi ve lo leggo il motivo è duplice nel senso da una parte c'è questa idea di un mestiere che è un po' una specie di missione per cui è necessario condividerla fra chi lo fa e quindi un'idea di fratellanza fra chi svolge questo mestiere che poi è una fratellanza fra tutti quelli che vedono l'attività creativa come un'attività condivisibile da tutti Pan è perché credo che sia la figura mitica che meglio si avvicina a quello che è un po' il contenuto delle cose di cui vi ho raccontato e anche un po' il nostro mestiere nel senso che Pan è il semidio il dio che dichiara l'appartenenza alla natura e quindi l'appartenenza al mondo da una parte dall'altra è infantile per cui è una reattività alle cose fra virgolette non primitiva ma appunto infantile che credo sia uno dei grandi temi dei grandi scopi e ricchezza del nostro mestiere prima vi hanno fatto vi ha fatto vedere questi lavori bellissimi per Aosta e questi lavori sono possibili solo se si vedono le cose come le vedono i bambini ma in senso positivo nel senso che noi tutti ci abituiamo a vedere le cose sempre nella stessa maniera soprattutto se viviamo in una città che conosciamo molto bene pensiamo di conoscere talmente bene che ci dimentichiamo di cose fatte e quindi la forza del nostro mestiere è proprio quello di avere l'innocenza di vedere le cose che abbiamo smesso di riconoscere per cui le assialità i percorsi i luoghi nascosti che siamo abituati a vedere ma che improvvisamente se li guardiamo con altri occhi sono luoghi straordinari quindi la percezione infantile è la grande ricchezza che chi fa questo mestiere deve avere e appunto prima è stato chiaro questo tipo di atteggiamento e quindi Pan rappresentava un po' questo poi l'ultima cosa perché Pan è anche il tema del panico e quindi del fatto che la reazione panica alle cose è una reazione che implica un'appartenenza totale al mondo nel senso che quando voi avete un attacco di panico se si ha un attacco di panico tutte le cose intorno a noi fanno parte del nostro corpo e quindi lo spostamento di un oggetto è un elemento doloroso quindi il tema è che fisicamente sentiamo che apparteniamo al mondo quindi è il titolo un po' questo scopo poi diciamo io ho provato a tirare giù un giuramento perché mi piacerebbe molto che gli architetti facessero come i medici che hanno un bellissimo giuramento e allora l'ho provata a scrivere ecco si può anche sorridere allora consapevole dell'importanza della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo giuro di perseguire come scopo esclusivo la felicità delle donne e degli uomini qualsiasi sia il loro ruolo il loro stato sociale la loro età che siano meno committenti o cittadini a questa felicità ispirerò con responsabilità e costante impegno professionale scientifico culturale e sociale ogni mio atto professionale giuro di non compiere mai atti progettuali costruttivi idoni a provocare deliberatamente l'infelicità delle persone di attenermi nella mia attività ai principi etici della fratellanza umana contro i quali nel rispetto della vita della persona non utilizzerò mai le mie conoscenze di declinare la mia professione nell'individuazione di linguaggi contemporanei specifici e genealogici capaci di creare la connessione fra individuo collettività e paesaggio praticando l'arte della costruzione nella ricerca del dialogo e dell'intersoggettività di praticare la costruzione come creazione di spazio luogo fisico simbolico significante e mitico della connessione fra sentire individuale e sentire collettivo di esercitare un atteggiamento infantile di appartenenza al mondo fatto di stupore e spontaneità attraverso l'assunzione da parte dell'architettura delle posizioni dell'ascoltare del vedere nei confronti della realtà di perseguire l'idea che la realtà e l'architettura siano fatte di materia fisica e di spirito di corpo e di anima di assumere su me stesso la consapevolezza e il peso del panico del buio di ciò che non si comprende del mondo in modo che non ricadano sugli esseri viventi che dovranno utilizzare l'architettura da me progettate né sul paesaggio né sulle città di praticare un'architettura che sia corpo sensuale e dialogante che accolga la molteplicità fisica che rifiuti le opposizioni e che pratichi la scelta della dualità inclusiva di perseguire una pratica dell'architettura che accolga la tecnologia come strumento di benessere collettivo ma mai come linguaggio o principio fondativo di accettare la debolezza la caducità della materia corporea l'eternità dello spirito e dell'archetipo e il mistero del tempo di accogliere nell'architettura progettata e costruita promossa e difesa la figura del mito come elementi di condivisione collettiva dello spazio e del linguaggio architettonico di prestare la mia opera con diligenza perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche e quelle giuridiche che non risultano in contrasto con gli scopi della mia professione di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e ai miei doti etiche ed estetiche di evitare anche al di fuori dell'esercizio professionale ogni atto e comportamento che possano dare il prestigio e la dignità della professione dell'architetto di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni l'ultima è la più difficile io volevo aggiungere una cosa per le cose bellissime che abbiamo visto su Aosta credo che appunto ho già detto prima della questione infantile che credo sia veramente uno dei grandi regali che noi nel nostro mestiere dobbiamo dare nel senso che ovviamente è infantile nel senso come dicevo prima cioè della capacità di vedere le cose che tutti noi ci dimentichiamo di vedere perché siamo abituati gli occhi l'atto di vedere è sempre un atto che poi si si anestetizza ecco credo che questi due esempi siano due esempi proprio di soprattutto tutti e due insieme diciamo uno unico praticamente siano esempi molto interessanti perché da una parte c'è il primo un esempio di lettura di quello che c'è e delle potenzialità di quello che già esiste di riscattarsi il secondo invece che è quello legato alla funivia credo che sia proprio la grande occasione cioè è l'occasione per il linguaggio architettonico di esprimersi in modo non dico come Frank Gehry a Bilbao perché è un tema ovviamente diverso però di improvvisamente far scattare la percezione di un luogo a livello internazionale e quindi in queste due idee di intervento sulla città ci sono c'è l'intervento di chi la conosce e lo fa per le persone che la abitano e per migliorare diciamo la vita anche quotidiana e poi dall'altra parte invece c'è l'intervento che può far cambiare la percezione di una città a livello internazionale perché improvvisamente la porta sulle montagne in senso fisico e anche simbolico e quando io prima parlavo di mito ovviamente vuol dire anche simbolo ed è chiaro che in quel caso c'è bisogno di un'azione simbolica molto forte che è da una parte il collegamento che è quello che tu hai fatto e poi dall'altra probabilmente un intervento proprio sull'edificio della funicolare che deve diventare un oggetto straordinario e può tranquillamente esserlo perché diciamo c'è tutta la storia della tecnologia collegata all'architettura che può aiutare quindi credo che siano veramente due esempi molto esatti molto calzanti e profondamente legati proprio al nostro mestiere quindi far vedere le cose come non siamo più capaci di vedere e far sognare un futuro possibile differente quindi mi sembra veramente credo che anche se diciamo le due cose sembravano completamente slegate in realtà non lo sono come spesso succede grazie quindi volevo chiederle cosa ne pensa delle stazioni interrate perché non so tipo Porta Susa che in parte è un esempio ma a me viene in mente per esempio la stazione di Edimburgo che è completamente interrata e sopra c'è un parco sto pensando ad Aosta questa zona della ferrovia che è uno spazio infinito che sa di degrado con 3000 binari anche morti che stanno lì non lo so mi sembra che in quella maniera lì la ferrovia divide proprio Aosta in due posti una parte un po' più bellina e l'altra più degradata e più abbandonata e l'altra domanda invece la voglio rivolgere a entrambi volevo chiedere come si veglia su un luogo perché io immagino che ci sia una progettazione che ha una funzione che è destinata che ne so ai giovani è destinata a delle cose ottime e meravigliose come si veglia su questo luogo perché non entri nel degrado immagino per esempio certi angoli di Aosta che sono sicuramente stati progettati con le migliori intenzioni che però in questo momento se uno parlo di piazza Narbonne per esempio beh allora alla prima domanda ha centrato una mia idiosingrasia cioè nel senso che ecco non amo gli interrati ma non amo non amo i percorsi interrati la perdita di orientamento anche prima quando vi facevo vedere il progetto di questa piastra sopra il parcheggio ci sono quei buchi quegli alberi che passano da sopra a sotto nel senso che ecco questa idea che si possa risolvere tutto interrando un passaggio un percorso perché è più comodo non mi appartiene non mi appartiene e poi va anche un po' contro ecco l'interrato anche la metropolitana oggetto fantastico ma nella logica di cui parlavo prima del percorso nel senso che la città ecco questa è la mia passione per i percorsi va anche un po' in contraposizione a un'idea di città per punti abbiamo sempre pensato che la città i luoghi siano dei punti da raggiungere più velocemente possibile con qualche mezzo ecco materialmente proprio la metropolitana è la specie di esemplificazione di questa cosa salgo in piazza del Duomo e arrivo ma di tutto quello che ci sta in mezzo io non so niente e non mi interessa ecco questa cosa benché prenda la metropolitana che è appunto strumento comodissimo però insomma c'è qualcosa che non mi torna e mentre ecco il percorso forse questa idea che al di là dei punti d'arrivo e di partenza forse il percorso è già di per sé no un argomento ecco del mio stare nel mondo mi sembra una questione e rispetto alla cura della città lascio magari dunque intanto lei ha usato un termine bellissimo che è vegliare che lo trovo meraviglioso e quindi è difficile essere all'altezza con la risposta della domanda nel senso che forse nella domanda c'è proprio la risposta nel senso che vegliare vuol dire amare qualcosa questo è sicuro nel senso che chi veglia necessariamente ha un amore nel confronto di chi o delle cose che veglia nella realtà c'è un tema progettuale di partenza nell'immaginare i metodi di manutenzione questo è uno degli aspetti fondamentali nel senso che quando si progetta obbligatoriamente si deve immaginare il tempo come agisce sulle cose questo è uno dei temi che sembra ovvio ma non è così ovvio nel senso della progettazione quindi c'è un tema di immaginazione e la manutenzione fin da subito e poi chiaramente dipende totalmente dal tessuto diciamo urbano che sta intorno alle cose nel senso che ci sono progetti magari clamorosamente sbagliati che però funzionano lo stesso perché le energie del luogo sono talmente forti penso all'intervento che è a Cadorna a Milano che è un intervento sinceramente delirante però funziona molto bene perché il tessuto in quel punto della città ha un'energia tale per cui anche una tettoia che non copre che non protegge che crea l'effetto Serra che è bruttissima funziona lo stesso questo è diciamo uno dei motivi per cui il nostro mestiere ha delle grandi diciamo ha delle grandi occasioni possibilità però non sempre in grado di o risolvere i problemi o rovinare una condizione già positiva quindi diciamo che la cura delle cose è uno degli aspetti fondamentali del luogo del pubblico questo è sicuro nel senso quando un'amministrazione non è in grado di curare di fare la manutenzione dei luoghi non è semplicemente una questione di come dire trasandatezza ma è proprio un modo di pensare cioè non rendersi conto che questa cura delle cose questa veglia delle cose se manca è una mancanza di amore per il proprio territorio per cui secondo me c'è una componente progettuale sempre che poi si si trasmette anche nell'uso delle cose e poi c'è il fatto che ci sono condizioni ineluttabili di di successo meno di certe aree o di di uso meno di certe aree appunto prima abbiamo visto nel lavoro il fatto di riconnettere certe linee è chiaro che ci sono ci sono percorsi che con atti più o meno criminali o più o meno voluti vengono bloccati diventano ciechi invece poi la loro riapertura permette poi di risolvere questa questione di diciamo attraversare le cose e quindi prendersene cura e aggiungo una cosa sul tema dell'interramento io sono d'accordissimo che per esempio la metropolitana obiettivamente dal punto di vista percettivo è quando si è dentro un po' un incubo e poi invece la grande emozione è uscire fuori cioè scoprire la luce dove si è finiti e quindi anche nel fatto della tecnologia di nascondersi la cosa bella di nascondersi è poi uscire la luce non è mai nascondersi in sé le stazioni ferroviarie nascono come diciamo la tecnologia che arriva nelle città e le cambia quindi come elemento mitico e infatti non so i grandi alberghi nell'ottocento nascono vicino alle stazioni i grandi alberghi di lusso perché era un luogo che rappresentava il futuro delle città poi nel tempo chiaramente questa cosa è cambiata perché l'uso del treno è cambiato adesso siamo in una condizione devo dire un po' delirante per cui in stazione si entra solo se si va a comprare o se si ha un biglietto se non si ha il biglietto non si può nemmeno accedere più ai binari è una cosa molto strana nel senso che non è più possibile io credo che il riscatto di un luogo come quello della stazione non sia nel nasconderlo ma nel ripensarlo come uso non so dire se l'uso che è stato fatto in ultimi vent'anni che è stato di trasformare in centri commerciali sia una possibilità sembrata quella più ovvia più semplice sicuramente ha rimesso in moto certe aree che prima erano degradate questo non c'è dubbio forse l'ha fatto in una maniera molto discutibile molto volgare io sono albisolese quindi c'è la stazione di Savona che è un bellissimo progetto di Pierluigi Nervi che è stata trasformata in un centro commerciale di periferia però questo diciamo la rende un po' più utilizzata di quanto non lo fosse prima quindi sono sempre questi grandi dubbi che si hanno nel senso che forse per breve tempo come dire un'energia di utilizzo può bastare rispetto all'intervento però sono d'accordo nel senso il nascondere per forza non è un come dire una soluzione è un po' quello che va di moda in questi tempi che si nasconde i grattacieli con gli alberi o le stazioni sottoterra è un dichiarare come dire è un modo di mettere in forma un senso di colpa che invece dobbiamo affrontare seriamente non nascondendosi qualche altra domanda? Basta? Bene, allora nel ringraziare i nostri ospiti ringrazio naturalmente anche tutti voi che avete voluto partecipare a questa iniziativa vi ricordo che è il primo di tre appuntamenti quindi vi aspettiamo il 9 marzo sempre alle 18.30 sempre qui per incontrare Enzo Bianchi intanto comunque grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti